questo corso è nato in uno di quei momenti in cui succedono le cose e non sai perché così quasi per caso in un giorno in cui chiedevo a daniela come si sarebbero comportati certi materiali sulla stoffa lì mi è scattata l'idea che daniela subito approvato così abbiamo iniziato a vederci per provare sperimentare testare vedere gli effetti e le nostre pagine prendevano forma e colore e il nostro libro creativo iniziava ad avere un cuore ecco questo vogliamo proporvi un percorso mensile dove costruirete la vostra personale pagina con tecniche nuove per liberare la fantasia per emozionarsi e stupirsi ogni incontro sarà divertimento e scoperta conoscenza e arricchimento userete ago e filo tessuti e carta colori di ogni tipo una musica particolare vi accompagnerà e tante altre cose sono nel programma e tutti ma proprio tutti potranno partecipare non ci sono limiti per creare